Un certo di ricerca molto importante qua a Samiki dall'Adige, all'avanguardia diciamo a livello europeo perché hanno sequenziato per primi il DNA della vite in Europa, quindi vengono ricercatori da tutto il mondo, anche questo centro dedicato per le novegine, insomma. Grazie. Che prende il nome dell'inventore? Che prende il nome dell'inventore che si chiamava Redo Rigotti, proprio l'agronomo che incrociò, non geneticamente, ma diciamo incrociando le due varietà vegetale, come anche Blunder Tungau, questo vino qua, c'ha il papà che rivestige la mamma, il papà che mette le altre, sono due varietà incrociate. È stato creato diciamo questa varietà per...